Controlli più severi in arrivo per chi guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti. È stato testato infatti negli scorsi giorni un nuovo sistema di rilevamento tramite l'analisi della saliva. L'apparecchio, nome tecnico Alere di DS2 ma rinominato Drogometro, è stato dato in dotazione sperimentale alla Polizia Stradale di Pesaro e viene utilizzato assieme all'etilometro durante i controlli e grazie all'assistenza di personale infermieristico verifica la positività al tipo di sostanza assunta. In caso di esito positivo la patente viene immediatamente sospesa per 10 giorni, tempo nel quale il campione viene inviato al Centro di Ricerche Tossicologico di Roma che confermerà con esattezza tipo di sostanza e livelli di assunzione. Così nelle scorse ore sono state 66 le persone identificate in seguito ai controlli nel Pesarese con due patenti ritirate per positività a cocaina e cannabis e il servizio continuerà nei prossimi giorni.